Buongiorno e ben trovati a questo appuntamento con Mattino 6. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa andando a guardare le prime pagine regionali. Iniziamo dal centro, l'edizione di Pescara apre con la cronaca giudiziaria, Jennifer la perizia inchioda. L'assassino, l'ex fidanzato era incapace di intendere di volere quando la uccise con 17 coltellate. Poi nel taglio alto continuano le proteste per i rincari sulle autostrade. La petizione arriva a 70.000 firme e poi da oggi al 5 marzo partono i saldi in Abruzzo. La spesa stimata sarà di 190 milioni di euro. A centro pagina torniamo a Pescara. Parcheggi per disabili, striscia la notizia in calza del comune. La promessa non mantenuta finisce nel mirino del Tg satirico di Mediaset. Andiamo a leggere nella didascalia, tre mesi dal primo blitz, l'inviato di striscia la notizia. Torna a verificare con l'associazione carrozzine determinate se come promesso il comune ha realizzato i parcheggi per disabili nelle aree delle comune riservate ai dipendenti. Gli stalli non ci sono ma il comune fa sapere che i lavori cominceranno la prossima settimana. Andiamo a vedere anche nelle cronache. Sempre da Pescara, droga in casa, arrestato un parrucchiere di 36 anni. Si tratta di Danilo Dinella che è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di 220 grammi di marijuana e di 10 di cocaina nascosti dentro casa. Poi Pescara, ancora coltellate tra vicini di casa, due feriti gravi. Poi manager arrestato, Vaccaro, sono 10 casi di stalking contestati dal PM. Andiamo a vedere anche sotto la fotografia di centro pagina. La parola all'esperto, bebè, mamme, asili nido e bonus 2018 per le famiglie. Poi parlamentarie in Abruzzo, autocandidature dei 5 Stelle uscenti e qualche volto nuovo. All'interno del giornale troviamo anche la chirurgia, il primo arto artificiale con il senso del tatto e vedete la fotografia della paziente con la mano bionica. E ancora notizia invece che arriva dalle vicine Marche, da Ancona, bimbo di 5 anni strozzato in casa, sospetti sul padre. È morto un bambino di 5 anni in casa a Cupera Montana in provincia di Ancona. Il padre che è stato portato in caserma dai carabinieri è un 24enne macedone disoccupato ed è in cura per problemi psichiatrici. La madre incinta è stata invece ricoverata. Andiamo adesso nel taglio basso del giornale. Oggi il presepe vivente a Rivisondoli e la Notte Santa va in scena il rito più antico d'Italia, gemellaggio con l'Umbria. Troviamo anche il calcio e soprattutto il calciomercato. Il pescara stringe per Gravillon e Vido. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere insieme la prima pagina dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura Chieti arriva alla stangata sul cimitero. Il comune infatti alza le tariffe, rincari fino al 200% e nuove tasse sulle pratiche. A centropagina ad Ortona. Beneficenza nelle feste di Natale. I clienti perdonano alle attività Anfas oltre 4 mila euro. Grazie a un gioco di cuore questa l'iniziativa. Nelle cronache Gissi morto il 61enne caduto nel caminetto. Non ce l'ha fatta l'alpino amato anche dai bambini. Il 61enne di Gissi finito il giorno di San Silvestro nelle caminetto di casa è morto nel reparto Grandi Ustenati dell'ospedale Caldarelli di Napoli. A Chieti albero crolla e si abbatte su due auto. Ancora manager Tiatino arrestato. L'abbiamo già visto in precedenza la notizia che riguarda Vaccaro e i casi di stalking. Scendiamo adesso nel taglio basso. Ritroviamo la notizia che riguarda il presepe di Rivi Sondoli. Per il volle invece Lanci scuote la sieco. Basta alibi. Voglio punti. Ora l'edizione teramana del quotidiano Il Centro. L'apertura di cronaca. Muore a 18 anni travolto da un'auto tragedia a Santa Lucia di Roseto. L'investitore è un vicino di casa. Vedete Silvio Sorgentone nel tondo all'interno della fotografia e poi l'Alfa GT che ha causato l'incidente mortale. Nelle cronache il dramma Pineto bambino stroncato dalla leucemia Cordoglio e commoziona Pineto per la scomparsa del piccolo Leonardo Cerquitelli stroncato da una leucemia solo di 10 anni. Ieri si sono svolti i funerali. E poi falda del Gran Sasso, Lolli. Nessun piano segreto sull'acqua. Ancora da Tortoreto. 200 firme contro l'arrivo dei migranti. Nel taglio basso abbiamo il calcio con l'intervista che riguarda il Teramo. Speranza. Teramo a vita. Orgoglioso di questi colori. Proseguiamo nella lettura delle pagine del centro. Adesso andiamo a vedere la prima pagina di L'Aquila Vezzano sul Mona. In apertura, violenza sessuale alla festa e libero. L'Aquila di vieto d'avvicinamento per l'indagato che il PM voleva invece in cella. E poi i cantieri della ricostruzione. Centropagina, gruppe ricolante all'Aquila. Sfollate 30 famiglie. Andiamo a leggere nella didascalia. In primo piano, la gru pericolante nel centro storico, quartiere San Domenico, dove il sindaco ha fatto sgombrare 30 famiglie rientrate. Dopo il terremoto avrebbe ceduto il basamento della struttura, facendo inclinare la gru di oltre un metro. Nella notte i lavori per smontare l'intera struttura, ritenuta pericolosa per la sicurezza. Ora passiamo alle cronache di spalla. Fiera in centro, con polemica sugli stranieri. Oggi in centro all'Aquila, la tradizionale fiera della Befana. Previste barriere antiterrorismo. Intanto Fratelli d'Italia, il partito del sindaco Biondi, invita a bogottare i venditori stranieri. E poi andiamo a Sulmona per vedere le altre notizie. Fedeli in trasferta per abbracciare il nuovo Vescovo ad Avezzano. Caccia ai furbi in 22.000. Non pagano l'acqua. Scendiamo nel taglio basso. Il calcio di serie D. L'Aquila e Avezzano. Prime mosse sul mercato. Ora passiamo a vedere la prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero. Il titolo di apertura è sul caro pedaggi, sulla 24 e da 25. Caro pedaggi, vertice dal ministro del Rio. Monta il malcontento. La CGL nazionale chiede di fermare gli aumenti sull'autostrada dei parchi. Si mobilitano tutti i sindaci del Terramano, l'ACI e la UIL. Noi non abbiamo alternative. Andiamo a vedere insieme un estratto dell'articolo di Pinoveri a pagina 46. Il ministro Graziano del Rio mi ha appena confermato l'interesse di insediare un tavolo concreto di confronto sulla vertenza pedaggi delle autostrade abruzzesi. E' quanto annunciato ieri sulla bacheca Facebook dal governatore D'Alfonso. Intanto scende in campo la CGL nazionale, congiuntamente alla CGL di Rome e Lazio e a quella Abruzzo. Il primo sindacato per numero di iscritti chiede al governo, al presidente del Consiglio Gentiloni, al ministro dei trasporti del Rio, di fermare gli aumenti della strada dei parchi a 24 e a 25 e ai presidenti di Lazio, Zingaretti e dell'Abruzzo D'Alfonso, di assumere una forte iniziativa in questo senso. Chiaramente sono tante le polemiche per quanto riguarda questo aumento, che vi ricordo si aggira attorno al 13%, per quanto riguarda l'autostrada dei parchi, cioè la 24 e la 25, ci sono anche spinte affinché vengano rivisti i contratti di concessione firmati dallo Stato nei confronti dei privati. Andiamo a centropagina per vedere le altre notizie. Pescara, nipote e zio aggrediti e accoltellati, una delle vittime, entrambe di origine macedone, colpita sette volte, ricoverati in prognosi riservata. Lite con accoltellamento, dunque ieri pomeriggio a Pescara, due giovani sono stati ricoverati in ospedale per le ferite riportate dopo essere stati aggrediti da un gruppo di persone. Si tratta di un 22enne ed un 32enne di origini macedoni, entrambi in prognosi riservata. Tre gli aggressori, secondo quanto appreso, sono stati accompagnati in questura per essere ascoltati. I fatti sono avvenuti nella zona delle palazzine di edilizia popolare di via Rigopiano. Il 22enne in particolare ha ricevuto numerose coltellate al torace. All'Aquila, abbiamo già visto in precedenza, si inclina una gru in centro, le famiglie sono evacuate, sono 30. Poi a centropagina succede a Chieti, il presepe vivente, Gesù e una bambina. Quello che andrà in scena domani a Chieti e alla Civitella si annuncia un presepe vivente diverso dai 22 che lo hanno preceduto. Una bambina infatti impersonerà Gesù. Andiamo a centropagina, scusate, di spalla adesso a vedere quest'altra notizia. A Polstrada meno morti 52 mila le infrazioni. Questo è il bilancio stilato appunto dalla Polizia Stradale. Sono state 32 le vittime lungo le strade abruzzesi. Nel taglio basso, l'anno che verrà, per quanto riguarda la politica, l'ingorgo elettorale del 2018. Un risico in cui i disallineamenti degli appuntamenti elettorali rischiano di creare degli ingorghi stellari. Per Giunta c'è anche la variabile dell'imponderabilità delle decisioni di natura giudiziaria legate soprattutto al caso dell'Anatra Zoppa ad Avezzano. Ecco la scacchiera che si presenta in questa primavera di votazioni. Andiamo nel taglio alto per vedere le altre notizie. Pescara alla protesta di disabili, beffati sui parcheggi. Un anno di polfer, pagella con tutti i nove, bimba litiga e fugge di casa. Per un 7 ritrovata a Pescara e poi la Serie B, Sebastiani spinge Ganza all'Ascoli. Obiettivo Gravion, il patron del Pescara. Lì giocherebbe titolare fisso altrove non saprei. Si aspetta la mossa dell'Inter per sbloccare il difensore così come per Embalo. Ora ci spostiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo anche qui a vedere il titolo di apertura. Uno schiaffo agli automobilisti. L'Acia Brussese critica l'aumento dei pedaggi su strada dei parchi. Peseranno sulle famiglie. A centro pagina a Colonnella. Urla e spintoni per il TV a prezzo stracciato. Ressa da super sconto. Andiamo a vedere le altre notizie. Nel taglio alto, camionista di Colonnella, Sacasce muore al volante ma evita il disastro. E poi il bilancio della Polfer, reati in calo nelle stazioni ferroviarie. Di spalla, Teramo al voto. L'esternazione di Verna compatta il PD attorno a Renzo di Sabatino, che è l'attuale presidente della provincia di Teramo. e poi il Movimento 5 Stelle, Berardini proiettato alle parlamentarie di Grillo. Nel taglio basso, la proposta, una casa della partecipazione al nautico. E poi, per quanto riguarda il calcio, la formazione Teramo Calcio, l'albero di Natale non andrà in soffitta. Passiamo adesso a vedere le prime pagine nazionali. E dunque apriamo i principali giornali italiani, partendo dal Corriere della Sera. Il titolo di apertura riguarda l'economia. Volano le borse, New York record, effetto Trump dopo Italia le tasse. Milano sale del 2,77%. A centropagina il maltempo, nella fotonotizia rischio valanghe, strade chiuse a Cervinia. Neve, 10.000 turisti restano bloccati. E poi troviamo il fondo di Maurizio Ferrera. I valori nei bilanci europei, coesione e solidarietà. Lasciamo il Corriere, passiamo a Repubblica. Il titolo di apertura ha salvati i radicali e il PD propone via il canone Rai. Andiamo a vedere meglio questa notizia di politica. Tabaccio offre il suo simbolo a Emma Bonino. Adesso è battaglia con i DEM per 10 collegi. Renzi sfida Berlusconi su TV e tetti pubblicitari. in iniziativa di Tabaccio ha consentito ai radicali di Emma Bonino di non raccogliere firme e dunque di presentarsi alle prossime elezioni. Continuiamo con le altre notizie. Collegamenti con la strage di Bologna. Dopo 38 anni, targa d'auto riapre la pista neofascista per l'omicidio di Mattarella. E poi, computer, tempesta perfetta, falla, mette la sicurezza a rischio, sotto accusa il vertice di Intel. Sarebbero miliardi i processori a rischio, sicurezza e attacco hacker. Andiamo adesso sulla stampa. Il quotidiano piemontese apre con una notizia diversa. Vaccino gratis per i bambini contro l'epidemia di influenza. L'iniziativa allo studio per la prossima stagione. Due milioni intanto a letto con l'influenza ospedale intasati e il picco atteso. Per lunedì. A centropagina. Ostaggi della tempesta perfetta. Da New York alle Alpi. La neve e il gelo bloccano le strade, i voli e le persone. Scendiamo nel taglio centrale. Grasso, patto di governo su ambiente welfare, Gentiloni, K.O. nei collegi, agita il PD, il programma economico dei 5 Stelle, 100 miliardi di spese in più per tre anni. Il fatto quotidiano ora. Andiamo a vedere l'apertura, sempre sulla politica. La radicale Bonino miracolata dai democristiani Tabacci e Company. Vedete questa foto con i tre, con il naso da clown Tabacci Bonino e Lorenzin. Tutto per evitare le firme. La strana coppia. Lorenzin intanto ruba la margherita a Rutelli, provocando anche qui tante polemiche. Nel taglio alto, l'Italia delle nuove truffe, come scoprirle e difenderci, scrive il fatto. Bidoni parte l'iniziativa del giornale per provare a sottrarsi alle fregature. E poi la RAI e l'appalto dei non sondaggi. 5 milioni e i conflitti di interessi della ditta filo PD. Andiamo sul sole 24 ore. Il principale quotidiano economico e finanziario italiano apre con le borse. Milano al top in Europa, ha sfiorato ieri il rialzo del 3%. Volano Fiat Chrysler più 8,4% il comparto delle banche. Al Wall Street il Dow Jones supera la soglia record dei 25 mila punti sulla spinta dei dati positivi sul lavoro. Poi il futuro dell'Unione. Il trattato dell'Eliseo in Europa si consolida l'asse franco-tedesco. Cioè vedete Macron e Angela Merkel a colloquio. Andiamo nel taglio centrale. Verso il voto. Taglio al cuneo fiscale. Priorità di PD e Forza Italia per rilanciare il lavoro. Idem per i neoi assunti ridotti altri 3-4 punti. Movimento 5 stelle sinistra. Alt al Geobact. Andiamo nel focus del taglio alto. La guida alla manovra. Stop all'amministratore unico per le società cooperative. Passiamo sul manifesto. Il quotidiano comunista. Il titolo classico sulla fotografia. In pompa magna. Trump pronto ad abolire tutti i limiti posti da Obama dopo il disastro della Deepwater Horizon del 2010. firma un decreto che liberalizza le trivellazioni offshore nonostante i dubbi bipartisan del congresso. Nel taglio alto invece il pasticciaccio delle firme. Arriva Tabacci per i radicali. Consentendo alla Bonino di presentarsi assieme al suo movimento politico alle prossime elezioni. e poi c'è l'editoriale di Alberto Asorrosa verso il voto. Se Renzi perde, il centro-sinistra si avvicina. Andiamo sul messaggero. Il titolo di apertura del quotidiano romano. Scuola. Pochi fondi. Lite sui bonus. Fumata nera sul contratto. Le risorse non bastano. Nonostante le rassicurazioni della fedele. I sindacati chiedono di trasferire nello stipendio benefit e incentivi a disposizione dei professori. Nel taglio centrale la fotonotizia. Scoperti due virus che possono infettare milioni di apparati. Chi spia i nostri PC? Allarme mondiale. A rischio anche i telefonini basati sulla tecnologia ARM. Praticamente la maggioranza di essi. Poi troviamo il sondaggio di SVG. Cresce il fronte antimigranti. L'Italia più a destra. Crollo dei progressisti. Tabacci salva la Bonino. Consentendolo l'uso del simbolo di centro democratico. Le borse. Euforia nelle borse. Effetto Wall Street. Piazza affari da record. Andiamo sul quotidiano il tempo. Restando ai giornali rumani. Sacchettopoli. Il titolo di apertura. Scoppia la guerra alle buste a pagamento nei supermarket. Caccia il trucco antitassa. Grazzo snobba l'azienda nell'occhio del ciclone. E ora il bollo sul carrello della spesa. Scrive Gianmarco Chiocci. Il taglio alto. Sole e tabacci. E questo il titolo per quanto riguarda la notizia dell'unione tra centro democratico e i radicali di Emma Bonino. E poi questa foto di pannella e Bonino a colloquio non mi somigli per niente. Sembra dire pannella alla Bonino. Andiamo su Libero. Il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Il titolo di apertura a case comunali è scandalo. La gente ci altrona come gli amministratori. Milano con 20 milioni di immobili in cassa più di Roma con 42 mila. L'85% degli inquilini della capitale non paga l'affitto a Napoli. Il municipio ignora quanti edifici possiede. E poi quelli che pregano per andare all'inferno. Il governo Igor, lo sterminatore, passa giorno e notte a leggere la Bibbia, mentre Eleonora Giorgi medita di nuovo di ritirarsi in convento. Andiamo sulla verità. Ora ancora quotidiani di aree di centrodestra. Il governo dice un sacchetto di bugie, la nuova tassa al supermercato. Non è vero che il pagamento delle sporte biodegradabili sia stato imposto dall'Unione Europea. ed è dubbio anche che esse recchino un beneficio all'ambiente. Solo una cosa è certa, è stata favorita la Novamont che già in primavera sapeva di questa nuova norma. E poi a centropagina Saviano sta girando la Germania per dire peste e corna dell'Italia. In tour con un libro intervista che solletica i peggiori pregiudizi sul nostro paese. Andiamo sul giornale, verso il voto. Ecco tutte le liste, due grandi coalizioni e una decina di partiti singoli e cattolici salvano la radicale Bonino. A centropagina c'è pure De Falco, furbata di Di Battista, si ritira dalla politica ma piazza il padre in Parlamento. Il secolo d'Italia, con la foto in primo piano di Giorgia Meloni, dobbiamo vincere questa l'esortazione della leader di Fratelli d'Italia. Nel taglio basso, in primo piano, la mano bionica italiana, Roma eccellenza globale, poi Iran domata alla protesta, disgustoso il silenzio dell'Unione Europea. Sacchetti mai riutilizzabili ma potremo portarli da casa, è questa l'indicazione del Ministero della Salute. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico, il titolo di apertura, lavoro più stabile, fisco più leggero, parti sociali in pressing sui partiti. Ecco le ricette, CGL, CISL, Confcommercio e Alleanza Cooperative chiedono alle forze politiche di mettere l'occupazione al centro dei programmi. E poi c'è l'editoriale di Antonio Maria Mira, quel che dice il fuoco, rifiuti e decoreati da nord, anzi da sud a nord. Andiamo a centro pagina, altra notizia che non abbiamo visto in precedenza, ennesimo rogo di rifiuti, allarme in Lombardia, brucia un sito abusivo di stoccaggio al nord. Il 40% degli incendi, spesso provocati da, anzi quasi sempre, provocati da mano umana e spesso con alle spalle la criminalità organizzata. Il mattino di Napoli adesso, andiamo a vedere il titolo di apertura, cure, anticancro e scontro, al nord terapie di serie B per i meridionali, Iavarone divide la scienza. L'Ileo di Milano replica le accuse dello scienziato Beneventano, ma il Pascale conferma, chemio, vecchie. La politica poi, sia la lista Bonino, verso l'intesa col PD, Centro Democratico offre il simbolo, mettendo il paletto di restare all'interno del centro-sinistra, Lorenzino Rutelli e duello sul simbolo della Margherita. A centro pagina, così ho vissuto tre mesi al fianco di un assassino, l'arresto a Siviglia parla la coinquilina di Materazzo. Il picco dell'influenza con l'emergenza al Caldarelli di Napoli per il boom della influenza, che raggiungerà il picco, come abbiamo visto, nei prossimi giorni, a partire dall'inizio prossima settimana. Andiamo anche sul secolo XIX, il quotidiano genovese, il titolo di apertura, Grasso Aperti alle alleanze. Intervista al leader di Libere e Uguali, nei DEM, dubbi su Gentiloni, candidato nei collegi. No al governo con PD e 5 Stelle? Dipenderà dai programmi su ambiente e welfare. Andiamo a vedere anche i quotidiani nazionali sportivi. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura riguarda l'Inter, incrocio Inter-Viola. Firenze, ore 20.45, quanti in trecino? Una sfida verità, il ritorno al Franchi di Borca, Valero e Vesino. Gli allenatori Pioli e Spalletti, tifosi sulle panchine sbagliate. Ciolito Icardi, argentini assetati di gol. Questo è un po' il riassunto della partita di cartello della Serie A. E poi nel taglio alto, Toro, giro di Walter. In retroscena della rivoluzione Granata con l'arrivo di Mazzarri in panchina. Via Mijelovic, Mazzarri fino al 2020. Ecco il progetto per aprire un ciclo di spalla. La svarione con il VAR messo in primo piano, dove è rifermato su Acqua e Rafallo. Rete da annullare, Chedira ha preso il pallone. Così il direttore di gara, dopo aver visto l'azione sul monitor, per i suoi vertici, però è un grave errore. Nel taglio basso, andiamo a vedere quest'altra notizia che riguarda la Roma. Nengolan punito, Roma, l'Evergrande offre 40 milioni. Icardi, pressing, Real, il Belga rischia di non giocare su Maurito, Nerazzurri, Sereni. Il Corriere dello Sport, andiamo a vedere il principale titolo. Napoli, area di Verdi. Continua il pressing per regalare a Sarri, subito a gennaio, la punta del Bologna. Ora il giocatore apre uno spiraglio. Nel taglio alto, stasera, Spalletti all'esame Fiorentina, alle 20.45, Chiesa e Inter. Faccia a faccia, anche Nerazzurri in corsa, nella caccia al talento Viola, figlio d'arte. Di spalla il Torino con Mazzarri, che ha firmato fino al 2020, liquidato Mijailovic. E poi il Milan, uno svedese, l'uomo nuovo per Gattuso sulla fascia. Augustinson, uno degli eroi anti-Italia, gioca nel Werder. Nel taglio basso troviamo il personaggio Douglas Costa, re del glibbing per quanto riguarda la Juve. Su Tutto Sport, l'apertura è dedicata al Torino. Forza Toro, arriva Mazzarri per centrare l'Europa. Mijailovic silurato con una telefonata nella notte post-derby. Cairo, non ero contento di Sinise, il K.O. con la Juve non c'entra. Tutti i segreti del nuovo tecnico, che debutterà domani contro il Bologna. Ecco come cambieranno squadra e strategie di mercato. E poi Juve, Allegri, Nuovo Lippi. Bianconeri spietati come ai tempi dell'artefice di un ciclo esaltante. Rossi, DS del Cagliari, racconta l'amico Max. Tutto cominciò all'Aglianese. Ancora per il Milan, mercato. Augustinson, Milan pesca in Bundesliga nel Werder, come abbiamo già visto. Ancora per il mercato, Cristante e Inclese diventano due casi. Poi lo sci di fondo, Tour de Schiede, Fabiani un podio a sorpresa. E per i motori, Eccleston senza Ferrari non è Formula 1. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo. E poi torniamo con la seconda parte della rassegna per approfondire le notizie dal nostro Abruzzo. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Apriamo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo da quella di primo piano del centro, che parla dei pedaggi sulle autostrade a 24 e a 25. 70 mila firme contro i rincari. Cresce la mobilitazione ed Alfonso annuncia la disponibilità di Del Rio a trattare. Verrecchia presenta una interrogazione. Andiamo a vedere quest'altro focus. Bus, artigiani e PMI dicono che in 14 anni le tariffe sono cresciute del 200%. Andiamo a vedere poi anche il bilancio della Polstrada. Di spalla, oltre 52 mila infrazioni e 1.516 patenti ritirate. Mentre nel taglio basso troviamo le autocandidature nel Movimento 5 Stelle abruzzese. Sidi, Vacca, Colletti, Del Grosso e Castaldi, in forse la Blondo, in attesa delle parlamentarie per le politiche. Ritroviamo il caro pedaggio anche nella pagina di primo piano sulla città. Aumenti, ennesimo schiaffo agli automobilisti. Il presidente dell'ACI Abruzzo, Carmine Cellinese, sprona i parlamentari a risolvere il problema. Tartassati per un abruzzese l'auto costa in media 3.800 euro l'anno di spese. Gli aumenti dei pedaggi incideranno su pendolari e sfollati. Poi troviamo anche l'ACGL che contesta il taglio dei casellanti, che fa il paio con gli aumenti e stride con gli aumenti. E poi nel taglio basso, Gloriano Lanciotti, della Camera di Commercio di Teramo, aumenti inaccettabili per il settore imprenditoriale, aumenti che incideranno anche sulle attività produttive. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo del messaggero. L'anno che verrà, prosegue il messaggero in questa ricognizione sul 2018, l'ingorgo elettorale complica tutti i giochi. La variabile impazzita del non utile incastro delle date pesa anche l'imponderabilità delle decisioni di natura giudiziaria. In questo momento sono nelle mani del governatore un po' tutti i dadi della partita. Infatti il focus, lo vediamo qui, dal Sifonso il nodo principale, se il presidente va a Roma. Poi il sindaco di Chieti di primio gioca d'anticipo le sue carte. L'anatra Zoppa d'Avezzano è l'altra variabile decisiva. Andiamo a vedere invece nel taglio basso l'opinione di Giuseppe Chieti. La tornata politica del 4 marzo promette un salutare rimescolamento delle carte. Giocchi ci siamo sul messaggero. Apriamo la pagina di Pescara. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Noi disabili beffati sui parcheggi. I consiglieri comunali non rinunciano agli spazi riservati e striscia la notizia. Torna all'assalto con Gimiglione. Nonostante i 15 nuovi stalli disposti dal comune Ferrante e carrozzine determinate, si dicono scontenti. La difesa degli assessori civitaresi Allegrino ha rispettato l'impegno di rendere più fruibile la sosta a chi si muove sulla sedia a rotelle. Andiamo nel taglio basso. Troviamo la lotta allo smog. Tavolo con ambientalisti e commercianti per il problema che riguarda Pescara. L'assessore Simona Di Carlo punta sulla prevenzione e limitare l'azione dei termosifoni per ridurre il PM10. Andiamo a vedere anche l'apertura di Pescara sul messaggio. Anzi no, andiamo a vedere prima la pagina di primo piano che riguarda gli sconti invernali e i saldi. I saldi è partita la corsa all'affare in Abruzzo spesa da 190 milioni. Questa è la stima per i saldi che iniziano oggi. Adesso sì, andiamo a vedere invece l'apertura della pagina di Pescara. Delitto Sterlecchini, il processo, Jennifer la perizia, inchioda l'assassino. Troilo era capace di intendere e volere quando uccise la ex con 17 coltellate. Si aggrava la posizione del 34enne. L'esame effettuato dal professor Di Gian Antonio sarà discusso davanti al gruppo il prossimo 24 di gennaio. Ancora cronaca, coltellate per la musica alta, due feriti gravi in via Rigopiano, lite in strada tra famiglie straniere vicine di casa, tre persone fermate dalla polizia. Proseguiamo con la cronaca sul centro. Droga in casa, arrestato un parrucchiere, il 26enne nascondeva marijuana e cocaina nell'appartamento di via del santuario. La convivente è stata denunciata. Poi, tente di rubare in una villa in centro, giovani finisce in manette. Ancora, cambiando argomento, lavori nelle case popolari Ater si candidano. 2.400 imprese edili, domande arrivate da tutta Italia. Nel taglio basso, la polemica. Pettinari Asle, lite sulla radioterapia. Il consigliere dei 5 Stelle, chiusa la TAC, fortunato, servizi garantiti. Ancora, sul centro, la cronaca. Vaccaro contestati 10 episodi di stalking dalle gomme tagliate all'auto incendiata. Le accuse al teatino finito ai domiciliari per aver perseguitato l'ex socio in affari. L'organizzatore di eventi dovrà comparire nei prossimi giorni davanti al gruppo che lo ha fatto arrestare. L'emergenza inquinamento. L'anno è partito con lo smog alle stelle. Polveri di nuovo fuori, limiti il 31 di dicembre e il 1 di gennaio. Il Movimento 5 Stelle dice che il Comune vuole risolvere il problema con un decalogo. Il decreto del TAR, poi, per il mercatino di Natale. Stop alla revoca. L'assemblea civica che torna a riunirsi la prossima settimana a bilancio e mercatino etnico si riapre. Lo scontro in consiglio dopo la pausa per il capodanno. La protesta davanti al municipio la ritroviamo anche sul centro. Strisce in calza il Comune sui posti riservati ai disabili. Tre mesi dopo il blitz di Ghione e la promessa di Pagnanelli, l'inviato è tornato. L'amministrazione si difende e delibera pronta da metà dicembre e lavori a giorni. Ancora per le iniziative della Befana. I cavalli al porto turistico per accogliere la Befana. Domani alle 11 la tradizionale manifestazione di consegna dei doni ai bambini. La pagina di Montesilvano. Cresce il conflitto sociale, politiche in numeri sbagliati dal Comune sull'immigrazione. L'ala destra della maggioranza attacca la giunta Maragno. Forconi sono migliaia i profughi che bivaccano in città. E poi per la nuova Pescara il governatore convoca in regione gli ex sindaci. Nel taglio basso troviamo la Befana del Vigile per aiutare chi non può fino a domani l'iniziativa. Andiamo nell'area metropolitana adesso. Uno sparti traffico per ridurre i pericoli nel tunnel Le Piane. A Francavilla il sindaco Luciani dopo l'incidente mortale dice Non va chiuso il tunnel e ci passano ogni giorno 50.000 auto. L'ultima tragedia nella galleria con il decesso di una mamma di 38 anni riapre il confronto sulle misure da adottare per disincentivare sorpassi e comportamenti scorretti nel tunnel che ha doppio senso di marcia. Torniamo adesso sul messaggero. Andiamo a vedere le altre notizie nella pagina di Pescara. Zio e nipote aggrediti e accoltellati. Abbiamo già visto in precedenza quanto accaduto in via Rigopiano a Pescara. Le vittime hanno 32 e 22 anni e sono di origine macedone. Uno è stato colpito 7 volte, ricoverato in prognosi riservata. Ieri alle 15.30 alla lite nelle case popolari di via Rigopiano. Tre sospettati individuati dalla mobile e portati in questura. Problemi di vicinato forse all'origine del fatto. Ancora a tutti i nove in Pagella. Bimba scappa di casa per un 7. Ritrovato 80 persone scomparse tra cui 38 minorenni alla stazione di Pescara. Questo è il bilancio stilato dalla Polfer. Nell'area metropolitana la merce vola con i bike messenger. A Pescara tre amici hanno fondato la società per consegnare prodotti a domicilio in bicicletta. Ed è boom. Petrocco, Perfetti e la Rover hanno aumentato la clientela grazie alle loro bullet capaci di trasportare fino a 100 kg. Proseguiamo. Tornando sul quotidiano Il Centro. Andiamo nella pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara. Quindi nella provincia pescarese fondi per 220 mila euro sull'agrario Cuppari all'anno. Con il finanziamento della provincia sarà recuperato in parte l'edificio. Interventi agli impianti termici e alla scalinata della sede storica della scuola. Proseguiamo con Pianella. Tari senza aumento e più incentivi varato il pacchetto tributario 2018. Il sindaco Marinelli aiuti a famiglie ed aziende. Nel taglio basso da Penne Vessina Gassi. Il PD chiede un passo indietro a Pietrucci. Andiamo ad aprire ora la pagina di Chieti. Sempre sul quotidiano Il Centro. Raid a Vasto Marina. Svaliggiati due ristoranti durante le feste. Quattro colpi in pochi giorni alle vele e alla trattoria toscana. Rubati soldi, vini e liquori. Indagini della polizia scientifica. Scendiamo nella pagina. Albero crolla e si abbatte su due macchine. Paura ripatiatina sulla provinciale per Francavilla. Interventi anche a Chieti e Bucchianico. Nel taglio basso morto il 61enne caduto nel caminetto. Non ce l'ha fatta Gissi l'Alpino amato anche dai bambini. Oggi la Sarma torna in paese da Napoli. Andiamo sulla pagina del messaggero di Chieti. Andiamola a recuperare rapidamente. Eccola qui. Il presepe vivente in apertura. Il presepe tradizionale nel centro storico di Chieti. Gesù è una bimba, la madre nigeriana e sarà Maria. La natività si terrà nella capanna di Betlemme. Da dove parte l'invito a visitare i bisognosi. Il percorso del pubblico da Palazzo Lepri. Di primio coinvolte le forze migliori della città. Andiamo a vedere insieme la presentazione di questo evento. Siamo alla 23esima. Per noi, mi credo, è sempre difficile andare avanti. Perché abbiamo 22 gruppi quest'anno. E quindi ringraziamo il Dio per questo. Però i giovani sono un po' restii. E gli anziani sono un po' vecchi. Però abbiamo ridotto il presepe. Anche i partecipanti. Ne saranno circa 300 di partecipanti. E diciamo così che noi, la nostra soddisfazione è quella innanzitutto. Perché ci teniamo in quanto è un ricordo religioso. Rappresentiamo qualcosa che rammenta al popolo quello che era la natività. Ma ci teniamo anche perché sono ormai 23 anni che l'Associazione di Atenostra fa questa manifestazione. E vorremmo portarla avanti ancora per altri 23 anni. Il futuro non si può ipotecare. Però speriamo che l'amministrazione comunale, i gruppi, la città, anche la città, venga a partecipare con noi. Abbiamo dei gruppi anche extra cittadini. Che hanno il presepe di teatro nostro, il presepe vivente, è stato il primo in Italia. Adesso non mi fate dire che non voglio essere io. Però ha i tempi in cui era il presepe itinerante di Chieti era il primo in Italia. Adesso l'hanno copiato un po' tutti. Qualcuno ha più possibilità di noi e quindi può darsi anche più bello. Noi andiamo avanti con le nostre possibilità. Però gli amici e associazioni dei paesi qui intorno ci tengono a venire a partecipare. E questo è buono. Di spalla sulla pagina di Chieti del messaggero, maielletta ancora al palo, il progetto da 20 milioni, progetto per il collegamento tra le piste di Mamma Rosa e di Passo Lanciano, l'amarezza di albergatori e operatori turistici e poi date a te servizi ai parcheggi Miloranza sul piede di guerra nel comune di Chieti. Andiamo nella pagina che riguarda la provincia. Tutto è durato poco, ma sono stati momenti da incubo sconvolto. Domenico di Loreto, mentre alla luce del sole ieri mattina, guardava gli effetti della tremenda tromba d'aria che ha scoperchiato il suo tetto. Tre quarti di tetto scoperchiato e la guaina ardesiata volata giù in mezzo, ha sfondato tre metri del muro di recinzione. Andiamo a vedere insieme il servizio. Il vento forte che ha soffiato con vere e proprie raffiche sulla città di Lanciano la sera di mercoledì 3 gennaio ha causato danni ad un villino alla periferia della città. Un vento da paura, raccontano i residenti, che si è particolarmente concentrato in località Torre Sansone, sulla provinciale che porta alla marina di San Vito Chietino. Il tetto della casa si è scoperchiato ed è volato di tutto. La guaina ardesiata, che si applica a caldo con una base catramata, è stata praticamente spazzata via dalle forti raffiche di vento per buona parte del tetto. I pezzi volati hanno poi tranciato il cavo dell'Enel, provocando qualche ora di blackout in tutta l'area e distrutto parte del muretto di recinzione. Sul posto i vigili del fuoco di Lanciano, che sono intervenuti anche in località marcianese per alcuni pali del telefono piegati dal vento. Adesso andiamo nella pagina dell'Aquila sul centro. Il caso all'Aquila, violenza sessuale alla festa, indagato libero. Il giudice ha inflitto il divieto di avvicinamento a carico del giovane accusato, ma il PM lo voleva in carcere. La tesi dell'accusa è sospettato e è andato oltre le fusioni erotiche, nonostante la vittima avesse manifestato il suo totale dissenso. Ma loro uccide il padre dell'indagato intanto, la difesa, ordinanza con tanti dubbi. Andiamo a vedere insieme anche questo servizio. È stato individuato dalla squadra mobile dell'Aquila l'autore della violenza sessuale avvenuta alla vigilia di Natale. Nella serata di ieri, 3 gennaio 2017, la squadra mobile, sezione reati contro la persona, all'esito di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, ha notificato ad un giovane trentenne aquilano, autore della violenza sessuale di cui è stata vittima una ragazza, anch'essa originaria del capoluogo abruzzese, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, il provvedimento del divieto di avvicinamento alla parte l'ESA, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo abruzzese. Le indagini della mobile sono state avviate nella stessa serata della vigilia di Natale, allorché, al termine della denuncia, la giovane ha fornito la ricostruzione di quanto subito, confermata anche dal referto medico emesso dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, aggiungendo agli investigatori della questura di essersi trovata in uno stato di semi-incoscienza in seguito alla consumazione di due drink. La ragazza, nel corso di una serata trascorsa in un locale di dintorni dell'Aquila, assieme ad un'amica, ha conosciuto un giovane che, al termine della serata, l'ha invitata a seguirlo, sebbene la vittima si sentisse stato confusionale. Il trentenne, una volta salita a bordo della propria auto, la vittima si è addiretta in un posto isolato nei pressi del lago di Sinizzo, dove ha costretto la giovane a subire un rapporto sessuale, abbandonandola immediatamente dopo, seminuda, in un posto isolato. La giovane è stata ritrovata dall'amica, che nel frattempo, avendola persa di vista, ha iniziato a cercarla, contattandola sul proprio smartphone, rimasto all'interno dell'auto del violentatore. In seguito alle numerose chiamate senza risposta inoltrate verso il cellulare della ragazza, lo stesso trentenne ha richiamato l'amica della vittima, indicandogli dove l'aveva abbandonata e portandosi lui stesso sul posto per restituire gli indumenti e il telefonino della giovane 21enne. Le indagini condotte dalla mobile sono arrivate ad una svolta circa l'identità dell'autore della violenza tra il giorno di Natale e Santo Stefano, allorché, grazie ad una serie di testimonianze di persone che si trovavano nel locale nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, è stato possibile risalire all'identità del giovane trentenne e anche alla vettura in disponibilità, descritta dalla vittima e dai testimoni con dovizia di particolari relativamente al colore alla nazionalità tedesca della casa automobilistica del veicolo. Il veicolo in cui è avvenuta la violenza è stato sequestrato dalla mobile sul delega della Procura della Repubblica, in attesa che la scientifica faccia tutti gli accertamenti tecnici tesi a rilevare tracce biologiche nel veicolo. In seguito, nei giorni di Natale e Santo Stefano, gli investigatori della mobile, coordinati dal dottor Tom Masoniglio, hanno sottoposto in visione alla vittima e ai testimoni un album fotografico dove è stato riconosciuto dalla vittima il giovane trentenne come autore della violenza subita e dai testimoni la persona che si è allontanata dal locale con la ragazza. Completiamo la lettura della pagina aquilana del centro. Assalti e i portavalori preso un marsicano, scacco alla banda della Golf, 61enne di Morino, individuato tra i componenti del gruppo criminale. Nel taglio basso invece processo a stati, arriva il rinvio a novembre. Mancano i testi dell'accusa, un poliziotto e l'ex presidente Chiodi, prescrizione sempre più vicina. Sempre dall'Aquila, il messaggero si inclina, una glu in centro, aria chiusa, evacuati 30 nuclei. L'allarme è scattato dal consorzio che sta eseguendo la ristrutturazione complessa e le operazioni di smontaggio. Persone dirottate in un albergo per passare la notte. E poi il Gran Sasso, operatori sul piede di guerra. Vedete la foto della seggiovia delle Fontari. Lo stupro di Natale abbiamo già visto in precedenza. Andiamo avanti. I saldi ogni famiglia spenderà 331 euro. Oggi al via la stagione degli sconti che durerà fino al 5 di marzo. Secondo Commercio, l'esborso medio sarà di 143 euro. Per Donatelli è necessaria una riforma posticipare la data. Il settore alimentare regge e continua il calo di vestiti e calzature. Intanto oggi, in centro all'Aquila, la fiera con 300 stagli attese, 30 mila persone. Nella pagina di Avezzano sul Mona, rifiuti pugno di ferro su chi evade. Questa volta si fa sul serio contro i furbetti. Parte l'incrocio dei dati e dentro il mese una società specializzata fornirà i nomi. al comune di Avezzano. L'assessore Presutti conferma. Scovo gli evasori a Basso Latari. L'avvocato ha l'Austria come esempio. Fototrappole già in funzione. Proseguiamo con la lettura del messaggero. Andiamo ad aprire la pagina di Teramo. Aumenti sulle autostrade. Il fronte della contestazione. Si mobilitano i sindaci del Terramano, l'Ace e la Will. Non abbiamo alternative all'autostrada. Colpiti gli sfollati già con tanti problemi da Isola a Roseto. Servono almeno 5 euro. Roberto Di Marco, primo cittadino di Isola, dice che le istituzioni ci hanno abbandonato. Andiamo ad aprire anche la pagina della provincia. La Croce Rossa salverà la piscina. Giulianova si lavora per il varo di una convenzione con il comune per fare in modo che possa essere riaperta anche la mattina. Su questa possibilità ha lavorato il vice sindaco Cameli, l'assessore Canzanese, il dirigente Pirocchi e Claudio Lamolinara. Ancora ieri una giornata di proteste per l'apertura solo part time. Andiamo sul centro a vedere anche la pagina di Teramo. E qui troviamo la tragedia a Roseto, 18enne travolto ucciso da un auto tragico incidente sulla statale 150 Santa Lucia, dove ha perso la vita Silvio Sorgentone investito da un vicino di casa. E poi muore a 10 anni stroncato dalla leucemia. Ieri appinito i funerali del piccolo Leonardo Cerquitelli, commozione in tutto il paese. Nel taglio basso la replica dell'assessore e vicepresidente della regione Lolli all'osservatore indipendente sull'acqua. Nessun progetto segreto sull'acqua, c'è solo una idea, dice Lolli. Andiamo adesso sulla città per completare la lettura delle notizie da Teramo e provincia. Berardini, dei 5 Stelle, proiettato verso le parlamentarie. L'ex consigliere comunale partecipa alle selezioni sulla piattaforma russo. E poi effetto boomerang, Verna compatta tutti sul Renzo. Candidature ai vertici DEM stigmatizzano le dichiarazioni dell'ex consigliere comunale. Ancora spacchettato il settore della Di Gesualdo. Dirigenti Cugnini si occuperà anche di scuole e anagrafe. La Cafforio di appalti, contratti e pratiche dell'Unione Europea. Questa è la notizia che riguarda la macchina amministrativa del Comune. Poi Befana, ancora eventi, weekend con la Befana della Laga ed ad imposte di Rocca Santa Maria. Domani e dopodomani l'evento dedicato ad adulti e bambini. In provincia, reati in calo nelle stazioni ferroviarie Terramane. Questo è il bilancio della Polfer per quanto concerne in particolar modo Teramo e provincia. Patrizia Corvaglia, il comandante della sezione di Giulianova, snocciola i dati dell'attività messa in campo nel 2017. Altra notizia, Ressa per i TV a prezzo stracciato a Colonnella. Devono arrivare addirittura i carabinieri. La calca fuori dal mercatone 1 prosegue all'interno tra Urla e Spintoni. Andiamo a vedere invece a Roseto le scuse del sindaco che ci mette la faccia sul pasticcio dei parcheggi a pagamento. I cartelli corretti col pennarello nelle date sbagliate anche sull'ordinanza con il sindaco che ha chiesto scusa alla cittadinanza. Adesso torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire la pagina dello sport. Partiamo dalla Serie B e dal mercato del Pescara. Pescara-Gravion accorda un passo. Vido si avvicina al difensore del Benevento e la punta dell'Atalanta. Sono in arrivo, secondo Giovanni Tontodonati, intesa per Embalo del Palermo. I siciliani invece vogliono cocco. Continuiamo. Pigliacelli. Zeman non fa il bene della società. Il portiere è passato alla Provercelli. Attacca il tecnico e il preparatore. Io escluso. Senza spiegazioni. Queste le parole dell'ex Biancazzurro. Nel taglio basso le altre DB. Il Bari prende Balcovec, Melchiorri al Carpi, Palombari a Salerno, il Foggia sull'ex Chieti Varone, la Provercelli punta Monachello. E poi lunedì di Francesco a Torrevecchia, l'ala del Bologna, il capitano della Micacci De Maggi, ospiti d'onore del convegno sulla lotta al disagio. Proseguiamo con la Serie C. Speranza, Teramo a vita, orgoglioso di questi colori. Così il capitano Biancorosso, che è il leader della squadra e della retroguardia del Teramo, racconta i suoi sette anni e le oltre 200 presenze col diavolo. Qui la gente mi ama, dice il difensore. La salvezza il più presto. Asta, uomo sincero e grande tecnico. Parole anche per Campitelli, per la sua voglia di vincere. Esprime ammirazione, appunto speranza. Poi dice sono legato a Vivarini. Due anni fa potevo andare in Bialpescara, ma ho deciso di rimanere e non ho rimpianti. Intanto per il mercato, Tulli finisce nel mirino della Fermana. I marchigiani sondano l'attaccante e toccherà al diavolo decidere il futuro del giocatore. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero. Torniamo in Serie B al Pescara. Sebastiani spinge Gans all'Ascoli. Il patron ha confermato l'interessamento per Gravione, Embalo, rinforzi difensivi. Pettinari nel mirino del Chievo e Cagliari. Il Pescara può rimpiazzarlo con Luca Vido. Le parole di Pigliacelli continuano a fare polemica. Zeman, con me hai sbagliato. Queste le parole dell'ex portiere Biancazzurro. Invece nel taglio basso troviamo la Serie D. Paris voglia un Avezzano affamato. Il patron traccia la rotta. Dobbiamo iniziare il ritorno molto meglio delle gironi di andata. Cambiamo pagina. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo. Teramo, mister Asta, ritorna all'antico. Sarà rispolverato il modulo 4321 studiato nell'estate. La Fermana chiede Tulli, ma l'attaccante non sarà ceduto, scrive Ania Cantagalli. Mercato, atteso un summit con Campitelli per valutare la strategia con il DS Repetto. Nel taglio alto troviamo il volle di A2, sortileggio alla Sieco. Si fa male anche Andrea Lanci. Si lecca le ferite nell'Ortona dopo il cappo interno con Bergamo. Ancora il basket di A2. Roseto, fondamentale girare a quota 6 punti. E per il Futsal, Mattias Rosa del Pescara in nomination agli Oscar. Andiamo a vedere anche le altre pagine di sport sul quotidiano. Il centro con la Serie D, gli abruzzesi ripartono. Leonetti, gol a Raffi che è una scommessa. Non poniamoci limiti. Il bomber della Vastese, il capocannoniere delle Girone. Il presidente mi ha fatto un regalo. Futuro, il resto qui avvasto queste le sue parole. Poi domenica si gioca al Pallozzi per la partita dei Nero Stellati e con tristi acquisti per la salvezza. Vedete la foto del bulgaro Asurov. E poi Matelica in arrivo per il Pineto all'esame della capolista Marianeschi Scalpita. Ancora il Francavilla, restiamo sempre in D. Francavilla nei guai, a Menta e infortunato. E poi caccia alla salvezza, San Nicolò, Montani è pronto al debutto. Nel taglio basso, l'Aquila, Gagliardini e Tersini nel Milino. Società a caccia di un difensore che dovrà sostituire i Bogio. E poi Avezzano, Giampaolo, Lancia, Bisegna e Marsicani domenica. Sfideranno la Iesina, privi dell'infortunato Persia. Andiamo in A2 con le trattative di mercato. Roseto, un trist di nomi per il rilancio in classifica. Gli Sharks a caccia di rinforzi. Carnovali, Passere, Frassinetti, profili valutati. Il presidente Cimorosi. Mercato non ci faremo trovare impreparati. Sempre il basket, Teramo Giulianova scatta l'ora del derby. L'amatori sfida Bisceglie per le partite di domenica. Completiamo con la pagina dello sport sulla città. Si parla chiaramente del Teramo con il nostro collega Jacopo Forcella che titola Teramo, l'albero di Natale non va in soffitta. Passate le festività, Asta ricomincia con la difesa a quattro per rendere la squadra offensiva. Il mercato non cambia, elementi che mancano. Il direttore sportivo Repetto dovrà comunque cercare di portare a casa un terzino mancino, un attaccante. Martedì prossimo amichevole Albonolis contro il Pescara Primavera di Epifani. Tulli non parte, interessamento della fermana per la punta biancorossa ma il diavolo non vuole privarsene. Andiamo nel taglio basso, c'è anche un titolo sul basket Roseto. La corsa alla salvezza riparte dalla Scaligera Verona. Era questa l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna domani alle ore 8. La nostra informazione invece alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.